Di recente lei ha ottenuto lo status di testimone di giustizia per aver denunciato sette estorsori dei casalesi, fra cui quattro anche condannati. Lei però ha rinunciato al programma di protezione, perché? Beh, alla domanda c'è una risposta soddisfacente perché sono sindaco da sette mesi, vivo qua da quando sono nato, io e la mia famiglia, ho fatto famiglia qua, mi sono sposato con mia moglie e le mie figlie e non ho mai pensato di abbandonare il territorio, anche quando lo potevo fare, perché io amo il mio paese, i miei concittadini sono persone fenomenali. Quindi non mi viene l'idea di abbandonare il territorio, anche per i fatti accaduti e quindi non potevo accettare un programma di protezione in una località segreta in questo momento, perché il mio obiettivo, me lo sono prefissato qualche tempo fa, è quello di portare questo paese alla normalità come sindaco e lo farò finché sarò sindaco e lo farò come semplice cittadino. Non è niente di eccezionale che ha fatto il sindaco Marcello De Rosa, da imprenditore, da cittadino e da sindaco. Quindi quando è il momento che la gente capisce che tutte queste cose è la normalità, allora significa che posso rinunciare pure alla scorta. Non teme per lei e per la sua famiglia? Beh, diciamo che io sono molto fiducioso nell'azione dello Stato, perché sono sempre convinto che lo Stato fa e ha fatto la sua parte. Logicamente qual è l'alternativa? Noi dobbiamo andare avanti in un percorso di legalità e di rinnovamento per questo territorio e del percorso di normalità che dicevo prima. Aver paura, lo dico sempre, è normale, però le cose vanno fatte. Vanno fatte e vanno fatte in un certo modo, come dice la legge e come dice lo Stato. Quindi io non ho paura di affrontare le cose dovute e dobbiamo fare qualcosa ancora di più importante per rilanciare l'immagine di questo territorio. Però voglio dire che stiamo sulla buona strada. Casa Pesena è ricordata perché c'è un'amministrazione giovane e perché c'è un sindaco giovane che vuole lavorare e rialzare questo popolo e l'immagine di questo popolo. Parliamo proprio dell'amministrazione e della sua giunta. Nei giorni scorsi si è dimesso l'assessore alle finanze Orlando Zagaria, si è lamentato per il cattivo funzionamento della macchina comunale e ha detto di fatto che non era nelle condizioni per poter dare un contributo. Lei che cosa dice su questa questione? Beh già ho fatto delle riflessioni anche alla vostra testata giornalistica. Parlare sempre delle stesse cose poi nemmeno mi piace tanto. Ancora di attualità l'argomento? Sì sì sì. Però voglio dire io ho scelto l'amico Orlando perché comunque siamo rimasti amici perché la politica è una cosa, l'amicizia è un'altra. Perché lo ritengo assolutamente una persona valida e competente. Però purtroppo nelle macchine comunali esistono, diciamo, non esiste la perfezione. Io dico che nemmeno il governo Kennedy aveva la perfezione del suo endurance. Orlando è un soggetto ambizioso, quindi una persona valida, come dico. Però logicamente noi giovani vogliamo tutto e subito. Invece c'è bisogno di tanta pazienza, tanta sapienza e tanta tranquillità per gestire un comune come Casa Besenna, ma anche gli altri comuni. Quindi perché le azioni amministrative sono lente, però vanno fatte. E infatti in questo periodo dell'amministrazione De Rosa, sette mesi circa, comunque abbiamo messo in campo parecchi progetti realizzati e stiamo andando avanti per la nostra strada. Logicamente ci dispiace per le dimissioni dell'assessore alle finanze, però diciamo la squadra è compatta, unita, più unita di prima e andiamo avanti per la nostra strada. Però dall'opposizione continuano a partire feroci critiche nei confronti del sindaco e della giunta. Lei che cosa replica? All'opposizione? L'opposizione fa il suo compito, il suo ruolo. Voglio dire, l'opposizione non può non parlare di un assessore che è dimissionario. Certe volte usa frasi inaccettabili. L'opposizione alimenta sempre polemiche e guarda sempre il peno nell'uovo. Quando vuoi, cita la Bibbia, invece di guardare il fuscello nell'occhio del nemico, guarda della travola nel tuo occhio. Lei diceva che abbiamo fatto molte cose, quali in particolare? Quello che mi viene al momento è la convenzione per il consorzio idrico che prevede la gestione e la manutenzione delle reti idriche a Casa Pesina. Una convenzione che ha fatto l'amministrazione di Rosa, quando le altre amministrazioni, già dal 1998, ci avevano provato a fare questo tipo di convenzioni. La stessa Commissione straordinaria ci ha provato a fare questo tipo di convenzioni. Noi, in solo sei mesi, siamo riusciti a fare questa convenzione con il consorzio idrico. Tutti i cittadini sprovvisti di rete idrica potranno chiedere l'allaccio alla rete idrica. Verranno azzerati tutti i contatori, rimessi tutti i contatori. Quindi per me è un motivo di grande soddisfazione. Quindi è una convenzione importante che ridà sicuramente ai cittadini un servizio in più rispetto al passato. E voi pensate che il nostro maggior creditore è stato il consorzio idrico in questi anni. Quindi noi se siamo andati in discesso finanziario è per i soldi che dovevamo dare, per i debiti che avevamo nei confronti del consorzio idrico. Adesso il consorzio idrico uscirà proprio dalla voce del bilancio comunale e farà la gestione autonoma della rete idrica. A giorni partiranno i lavori anche per i rocuni cinemateriali. Quindi tutte queste cose che l'amministrazione De Rosa ha definita dall'opposizione sei mesi di amministrazione negativa, io dico che a noi sono i fatti a parlare. Quindi voglio dire secondo me stiamo operando e correndo e facendo delle cose buone per il territorio e positive per la collettività.